Era risultato positivo al Covid-19 questa notte nella terapia intensiva dell'ospedale di Pescara dove era ricoverato il suo cuore ha cessato di battere e una morte legata al coronavirus, quella di Francesco Di Berardino, infermiere in servizio all'ospedale di Popoli che non ce l'ha fatta a vincere la sua battaglia contro il virus. Ad accertare se il decesso è dovuto proprio al Covid sarà l'Istituto Superiore della Sanità. La notizia però ha gettato nello sconforto la comunità di Scafa dove l'uomo viveva e i colleghi del nosocomio di Popoli interessato da un piccolo focolaio che ha destato preoccupazione. Tre dei sette operatori sanitari contagiati risiedono in Vallepelinia. Il dolore dei colleghi fin dalle prime ore di questa mattina è stato espresso anche in alcuni post sui social. Un avamposto come tanti, quello dove si è trovato a lavorare Francesco e dove Francesco ha contratto il virus, lui e tutta la sua famiglia. Sì, un avamposto come tanti, scrive Maria Luisa Ianni, ma ci ricordano che tutto è stato fatto e soprattutto che tutto va bene e comunque sia, siamo i primi della classe, ma fateci il piacere. Un 25 aprile in cui la liberazione di questo paese dovrebbe essere dall'ignoranza, da presto a pochismo, dalla superficialità, dal qualunquismo. Certo che si può morire in prima linea, ma solo quando sei sicuro che ciò che è stato fatto segue un disegno che porti a qualcosa e così riesce a accertarne la morte, forse anche accettando di essere un martire o un eroe. Una morte che fa riflettere sull'impegno, l'abnegazione, l'esposizione degli operatori sanitari in tempo di emergenza. L'infermiere, da quanto si è appreso, aveva avuto la possibilità di rimanere a casa, ma non ha voluto lasciare i colleghi a combattere su fronte. Si era laureato in età matura proprio per l'amore verso il lavoro. Oggi il decesso che ha spezzato il cuore a tutti. Alla famiglia vanno le nostre condoglianze.